Sono stati resi noti questa mattina in conferenza stampa al comando dei carabinieri di Termoli I dettagli dell'operazione Chiavetta Magica che ha portato all'arresto di 15 persone, 7 in carcere e 8 ai domiciliari Le misure cautelari sono state eseguite tra la provincia di Foggia, il Basso Molisse e Lanciano A spiegare i particolari il procuratore Ludovico Baccaro insieme al comandante provinciale dei carabinieri della Zonca Al comandante della compagnia di Termoli Paolo Nichilo e a quello della stazione di Termoli De Carlo La truffa in questione già a luglio di quest'anno superava i 150.000 euro Ad oggi invece si è arrivati al doppio con 300.000 euro Tutta l'azione di questa organizzazione verteva sui distributori automatici di bevande Poste all'interno della Fiat di Termoli, della Sevel, dell'ex Sofim di Foggia e della Fiat di Pratola Serra Le persone che gravavano attorno a questo giro sono al momento 107, ora indagate e che dovranno rispondere di truffa aggravata Proprio perché attraverso delle chiavette contraffatte riuscivano a risparmiare La clonazione avveniva su importi pari a 15 euro e successivamente le chiavette venivano poi cedute agli utilizzatori finali al prezzo di 5 euro Va chiarito che alla società proprietaria dei distributori non arrivava nulla in quanto estranea la truffa e anzi vittima del giro Le 5 euro infatti finivano tutte nelle tasche dell'organizzazione criminale che aveva al suo interno una vera e propria suddivisione verticistica Una persona a capo gestiva il computer dove venivano effettuate le ricariche Altri invece erano in stretto contatto con il capo e poi facevano seguito una serie di collaboratori, gli otto messi ai domiciliari Gli arrestati sono dipendenti della Fiat e di alcune ditte esterne, sono serviti ore ed ore di appostamenti filmati e trascrizioni ai carabinieri della compagna di Termoli Attraverso un lavoro davvero scrupoloso o tante militari dell'arma che ieri hanno messo fine a questo fenomeno illegale Tra le intercettazioni eseguite sono state scovate anche delle telefonate che hanno gettato ulteriore ombra sulla vicenda In particolare infatti alcune telefonate con diversi foggiani facevano riferimento anche ad un commercio di armi Ma in questo momento non sono stati riscontrati elementi utili a sufficienza per poter prendere provvedimenti Oltre a questo sono stati appurati anche dei furti di pezzi all'interno dello stabilimento Fiat di Termoli I comuni interessati dagli arresti sono Guglionessi, Ururi, Foggia, Apricena, Santa Croce di Magliano, Porto Cannone e Lanciano E diverse sono state le compagnie dei carabinieri a partecipare allo smascheramento come Larino, Foggia e Campobasso Che dal dicembre 2013, inizio delle indagini, hanno dato un contributo utile ai carabinieri di Termoli Il tutto è scaturito da una denuncia da parte della società di Genova che fa capo a questi distributori automatici, la ELA DOFOR Dalla ditta infatti si erano resi conto di un grave ammanco mensile e hanno sporto denuncia Purtroppo, ha spiegato Baccaro, sono stati tantissimi dipendenti delle fabbriche ad utilizzare queste chiavette contraffatte Tanto da creare una diffusione capillare all'interno di ogni fabbrica Mozzarella e limoni erano questi termini in codice per le ricariche da effettuare Ma per gli uomini dell'arma non è stato difficile incastrare l'organizzazione accusata di associazione per delinquere Finalizzata l'alterazione e l'utilizzo di chiavette elettroniche di truffa aggravata